Musica Oggi è una giornata molto importante per il Comune di Curinga perché nel visitare il nostro gigante buono, ossia il Platano, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere ospiti e cultori di questo albero la Proloco Nazionale, Regionale e Provinciale Calabrese. Venire ad ammirare questo monumento della natura ci riempie di orgoglio, ci riempie di orgoglio perché soprattutto è stato apprezzato a livello internazionale avendo avuto nella votazione degli alberi più amati d'Europa il secondo posto. È visitato da tutti, è visitato ed ammirato. Noi abbiamo cercato di renderlo fruibile agli occhi, alla simpatia della gente cercando di rispettare la natura che è intorno. La gente si adatta a questo nostro comando e siamo contenti di tutte le visite che quotidianamente vengono fatte e speriamo ancora di renderlo migliore nella fruibilità, ripeto, mantenendo la natura nel modo più compatibile con le visite. Io ringrazio ancora la Proloco per questa visita importante, per la pubblicità di per sé che farà all'albero e l'apprezzamento che loro stanno avendo su Coringa, non soltanto per quanto riguarda il Platano, ma per altri luoghi meravigliosi che ha Coringa. Precisamente mi riferisco alle terme romane e al monumento ex convento basiliano del VII secolo che sono delle attrattive non più regionali, ma sono delle attrattive di ordine nazionale.